Indaco Masci, tanti bambini, tanti piccoli campioni, potenziali campioni di domani, oggi qui allo Stadio Triatico per l'inaugurazione di questo Family Club. I genitori possono vedere la partita, i bambini possono giocare tranquillamente qui. Sì, questo spazio è bellissimo, il Comune di Pescara lo ha messo a disposizione all'interno dello stadio della Pescara Calcio. La Pescara Calcio ha organizzato un mini club in cui i bambini potranno venire nel momento in cui i genitori guarderanno la partita. Quindi è un momento di aggregazione, diciamo che Pescara si proietta come gli stadi più importanti, come uno spazio proprio dedicato ai bambini. La Pescara Calcio ha fatto una grande operazione, la squadra sta andando bene, quindi speriamo di essere lanciati verso la Serie B perché Pescara almeno deve stare in Serie B.